Sale l'attenzione al confine tra India e Pakistan dopo la decisione di Nuova Delhi di revocare l'autonomia del Kashmir indiano. Primo scontro a fuoco tra le due superpotenze nucleari lungo la cosiddetta linea di controllo tra le due aree della regione. Morti tre soldati pakistani e cinque indiani e domani riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Spostiamoci negli Stati Uniti.